A chi vuole intraprendere il mio mestiere, credo che bisogna semplicemente fare molta molta esperienza, moltissima, e soprattutto quelle negative. Prima mi sono aiutato da solo, ma più che altro ad accettarti e ad amarti, quindi a conoscerti, è arrivato al punto che io mi sono conosciuto per primo, riesco a farmi conoscere dagli altri. Era il mio telefono. Assolutamente buttarsi sempre nella vita, anche se non sai dove ti butti. Cioè ti butti da una finestra, magari c'è un materasso, magari un bel pezzo di cemento. Ripeto, crederci sempre e rendersi male, ovvio.